Piazza San Gaetano è il vero cuore del centro storico di Napoli Agora greca prima, foro romano poi L'antica area è ben visibile negli scavi del complesso di San Lorenzo Maggiore che comprende una delle più antiche chiese di Napoli Il campanile è invece rinascimentale Con la sua ampia scalinata si apre sulla piazza la Basilica di San Paolo Maggiore La chiesa insiste sull'area dell'antico Tempio dei Dioscuri, i figli gemelli di Zeus Più interna rispetto alla Basilica c'è l'entrata di Napoli Sotterranea È l'altra città, quella sottoterra, fatta di cunicoli, cisterne e cavità